Ehi yo, this is Monashkin! Non ci salite perché ho rischiato semplicemente di cadere sulla Mayonky, poverina cazzo! Mayonky schiacciata! Anche tutti gli altri della nostra categoria sono stati fichissimi, quindi dei! È stata una bomba, infatti i gruppi sono passati alla grande, purtroppo è uscita la Bonny! E io e Damian abbiamo fregnato più della perbe di Rita Vessenzia! T'abbiamo smontato tutto, cioè non piangeremo più per gli altri concorrenti! Sì, dopo! Perché c'è, gli vogliamo bene! Ma ma anche per noi! Ma è anche per noi, però la Bonny era... era la Bonny! La Bonny era la Bonny! Vabbè, almeno ora è tornata a Pian de Carlotta! A Pian della Carlotta! E siete di nuovo 16 abitanti i Bonny! Davvero, erano diventati 15, non sapranno più come fa! Mo tornerà a non sentire le sue canzoni! Perché... vabbè regà, comunque lui è uscito perché non sa se non si fa la sua, sta canzone! Non sa se non si fa la sua, sta canzone! Fai detto, anzitutto ti voglio chiedo scusa, perché mamma mia! Mamma mia! Te vogliamo bene Bonny! Va continuata a prendere per il culo la Bonny! Sì, bisogna sempre prendere in giro la Bonny! E parlare di lei al femminile! Certo! Questo è stato molto importante! Ah, io e Damiano gli abbiamo fatto un ottimo scherzo per salutarlo! Ah, per salutarlo! L'ultimo quattro giorni fa gli abbiamo messo un uovo nelle scarpe, pensando che lui se lo mettesse e pam e se lo spaccasse! Ok, per tutta chi mi fa, sono sempre gli scherzi del merda! Però lui non si è messo le scarpe per quattro giorni e ieri l'ha messo in valigia, ma è tornato a casa credo! E quindi ci avrà tutta la valigia piena delle uova spaccate! Quella friccatina! Ci hanno fatto la manicure! La manicure! Ah, ci hanno fatto la prossima assegnazione! Che non possiamo dire ma che è... Un pezzo figlissimo! Superfico! Sì, assoluto! Oggi l'assegnazione ce l'ha fatta Rodrigo perché purtroppo Manuel non c'era! Ora sono alle 9, stiamo per andare in sala proprio fino a mezzanotte e stiamo morando di sonno? Tu stai morire da sonno? Ma perché? Ok, io sto morando di sonno! Vero? Sì! Ma perché? Voi sono stanca! Sfigata! E... Levate! Levate! effettate come si vede vede perché salgono di sono più attiva di te! Secondo voi chi è il più moscio? Io dammi... È il più moscio dammi hanno titolo ce l'ho capo! Ragazzi, questa domanda cerca di fare tutti e cercano di avere la methodica di..." Non è vero! Esatto! In realtà i Transforme iнем sono diventati un power trio! Sono diventati un power trio come i rossi! Eccoci! Langone il부! Mamma mia regà! Manca proprio una prima! Suona buona Non vanno dei celsi così Torniamo al nostro videodiario Abbiamo gli ultimi 30 secondi Quindi dobbiamo dire le cose veramente velocissimamente Questa settimana sarà una settimana molto divertente Fighissia, continuate a votarci a vedere il nostro videodiario Ma ero partito a macchinetta E vai, continuate Ok, votateci nella prossima puntata Abbiamo bisogno di voi Vi vogliamo bene, ciao